Mister, non è bastata la prestazione quasi perfetta della Pistoiese contro il Monza? No, infatti siamo rammaricati per questo, perché insomma all'ottantesimo ormai pensavamo di portarla a casa. Però detto questo, non posso fare solamente i complimenti ai ragazzi perché hanno dato veramente tutto quello che avevano. Ma di là del risultato ci sono comunque altri buoni segnali per questa Pistoiese? Sì, sì, assolutamente. La squadra adesso è solida, sa quello che deve fare, è determinata, dà sempre il massimo e quindi sono tutti quanti aspetti molto, molto positivi. Sono ragazzi che, come ho detto prima, stanno lavorando da luglio molto bene. Con i ragazzi quando sono giovani bisogna attendere il momento giusto per metterli dentro, bisogna avere pazienza e poi se hanno qualità, se li metti nel momento giusto ti dimostrano le loro qualità, come è stato per Tempesti oggi e come è stato per Cerretelli in passato. Sottisfatti purtroppo no, perché quando perdi, io ancora in tutti questi anni non mi sono abituato alla sconfitta, però ripeto, quando dai tutto quello che hai ed esci dal campo stremato come hanno fatti i miei giocatori, a quel punto io devi fare solamente i complimenti. Di questo ci fa veramente molto piacere perché era un nostro obiettivo quello di ricreare un po' di entusiasmo e piano piano con l'impegno, con i risultati, con la determinazione ci stiamo riuscendo e insomma dobbiamo continuare su questa strada senza mollare niente. Il mister Brocchi le ha fatto i complimenti per il buon lavoro che sta facendo con la Pisto Iese. E io li faccio a lui perché è vero che è una squadra forte, ma è una squadra forte che gioca anche a calcio. A primo minuto, quindi immagino la soddisfazione, anche perché sei andato molto vicino al gol. Sì, sono molto contento innanzitutto che il mister mi abbia dato fiducia e peccato che non sia entrata quella palla. Una partita quasi perfetta quella della Pisto Iese. Sì, soprattutto con una squadra molto forte. Peccato per non aver portato a casa punti, ma ora c'è solo da pensare alla prossima partita. Sì, me l'aspettavo perché insomma a settimana abbiamo provato così, però non ero sicuro. Però sono stato molto contento di questo gesto da parte del mister verso di me. Devi stare lì con la testa e essere concentrato dal primo minuto e non pensare ad altro. Alla fine il Monza se ne va via con tre punti da Pistoia. È stato più faticoso del previsto? No, più faticoso del previsto no, perché sapevamo di affrontare una squadra in salute, una squadra che ci avrebbe messo in difficoltà, che avrebbe chiuso tutti gli spazi. E quindi è normale come un po' la logica di questo campionato. Tutte le partite abbiamo delle difficoltà di questo genere che dobbiamo saper gestire. Dobbiamo capire i momenti dove velocizzare, i momenti dove avere più lucidità. Oggi a tratti l'abbiamo fatto, in un momento della partita, soprattutto nella metà del secondo tempo, abbiamo fatto un po' più di fatica. Però penso che alla fine sia una vittoria comunque meritata per le occasioni che comunque si è riusciti a creare. Mi aspettavo di fare gol prima perché comunque hanno fatto, hanno creato delle buone occasioni. I miei ragazzi, è stato molto bravo il portiere, in altre situazioni sono usciti molto bene i difensori avversari. Però io penso che potevamo sicuramente fare gol prima, ma abbiamo fatto una partita buona e vincere in trasferta non è mai semplice. Noi ad oggi ne abbiamo pareggiato solo una, gli altri ne abbiamo vinte. Quindi insomma direi che è un altro tassello importante. È ben allenata, è un allenatore bravo che ha conoscenze, allena un gruppo di mix, di giovani e giocatori che hanno già un po' più di esperienza. Io penso che i risultati che sta ottenendo sono frutti di un ottimo lavoro. E quindi oltre a sperare che possa raggiungere gli obiettivi prefissati per l'amicizia e l'affetto che ha nei suoi confronti, penso anche che se li meriti per quello che stiamo vedendo in campo. Ma lui è un amico, poi dopo negli ultimi anni è normale che non vivendo nelle stesse città ci si perde un po' e tutto, ma a lui mi lega comunque un affetto e un'amicizia che va avanti da tantissimi anni. Non è semplice perché noi non dobbiamo solo vincere, ma dobbiamo vincere e giocare bene. Quindi dobbiamo avere una qualità di gioco, poi dopo la mia mentalità, il mio credo è quello di cercare di giocare sempre palla a terra, cercare sempre di partire da dietro, cercare di occupare bene il campo, cercare di arrivare alla conclusione con dei fraseggi dovuti a situazioni che si creano all'interno di concetti che i ragazzi stanno piano piano assimilando. E quindi sono molto contento, sono contento quando si vince perché in altre partite dove magari abbiamo pareggiato o l'abbiamo pareggiate perché abbiamo finalizzato poco. Oggi siamo riusciti a trovare un gol importante, avremmo avuto l'opportunità di farlo prima, però penso che ribadisco è stata una vittoria importante perché abbiamo affrontato una squadra che ci ha messo comunque in difficoltà. Sicuramente la società ha delle ambizioni veramente importanti, quello che dice la società cercherà sempre di farlo e di portarlo avanti. Io dal mio punto di vista però devo pensare a quella che è questa stagione perché ogni partita nasconde delle insidie, ogni partita scendere in campo da favoriti non è mai semplice. Noi tutti si aspettano che si vincano le partite 2-3-0, vedi anche nelle cose che mi hai detto te adesso, però io penso che nel nostro girone e anche in altri gironi ci siano squadre che hanno dentro giocatori di categorie superiori, giocatori forti e magari incontrano le difficoltà. Quindi ad oggi bisogna fare i complimenti a questi ragazzi che con umiltà stanno affrontando questo campionato.